Buongiorno e buon anno a tutti quanti di Positato News, che sia un anno felice e sereno. Che stiamo facendo qua? Stamattina stiamo in attesa dei Re Maggi, un gruppo di amici di Richequense che ci omaggiano della loro presenza qua oggi a Sorrento con la presenza dei Maggi che usciranno dalla casa comunale e attraverseranno Piazza Tasso, il Corso Italia, fino alla chiesa dell'Annunziato dove raggiungono il Bambinello e dopo faranno una sfilata. Un aperitivo della grande sfilata che fanno a Vicaquense. Un aperitivo della grande sfilata che fanno a Vicaquense, quindi nasce una grande sinergia e quindi una città che cresce, soprattutto sulle sinergie fra i vari comuni e quindi siamo aperti a tutte le collaborazioni con le associazioni che ci stanno e quindi è un momento di crescita culturale per la città. Grazie. Grazie sempre a voi e auguri a tutti.